Stamattina è venuto il Presidente Zaia, abbiamo fatto una riunione tecnica con tutte le strutture, tutte le forze in campo, abbiamo fatto un riepilogo della tragica situazione che quindi stiamo ad aggiornarvi. Rispetto ai numeri di ieri, la novità di questa mattina è che due persone sono state riconosciute, si tratta di due cittadini della Repubblica cieca e quindi nel controllo dei numeri le vittime sono nove, di queste sei riconosciute, i quattro che già erano stati riconosciuti ieri più i due riconosciuti questa mattina dai familiari, sono venuti i familiari insieme al console, si sono recati dove noi abbiamo la struttura dove ci sono le salme ed è stato eseguito il riconoscimento da parte dei familiari. Altre novità sui numeri non ce ne sono e quindi rimangono sempre i sette feriti, quattro nelle strutture ospedaliere Trentine e tre nelle strutture ospedaliere Venete e i cinque soggetti che sono stati fin dall'inizio richiesti dalle famiglie e che ancora non sono stati trovati o non hanno una identità. Questa mattina sono continuate sul campo le ricerche e 14 operatori con due cani della Guardia di Finanza dalle 6 e mezza alle 9 e 15 hanno operato sul campo. Quindi come avevamo detto nei giorni scorsi siamo andati, gli uomini sono andati sul campo e quindi in una situazione di pericolo però in sicurezza perché come abbiamo spiegato nei giorni scorsi le modalità di azione hanno permesso di agire in sicurezza con un elicottero nel caso ovviamente di eventi di eventi straordinari. Sono state trovate molti reperti chiamiamoli tecnici, materiale tecnico di chi andava in montagna e anche qualche reperto organico. Presidente, per cui possiamo fare un po' di chiarezza sui numeri? Prego, prego, prego. Esattamente le persone che ipoteticamente sono state coinvolte in questa tragedia, tramorti, dispersi, non identificate, quante è? 11 o 12? Le vittime avute sono 9, di queste 6 sono state riconosciute e quindi ci sono 3 vittime oggi senza un nome. Poi ci sono altre, al netto dei 7 feriti che comunque sono stati coinvolti, poi ci sono altre 5 persone, tutte italiane, che sono state richieste dalle famiglie. Occorrerà capire se fra queste 5 persone ci sono soggetti che rientrano nei 3 che ancora dobbiamo riconoscere. Perché questo non lo sappiamo, questo è lo stato delle cose. Ma quindi dire 3 dispersi non è corretto ancora che rimangano? Questo non... Noi non li chiamiamo dispersi, noi li chiamiamo reclamati dalle famiglie. Abbiamo fatto così fin dall'inizio. Ma i reclamati in tutto quanti sono? 5, 5. Ma no, no, anche tra quelli che sono qua hanno un'identità. I reclamati in tutto sono... No, i reclamati hanno tutti un'identità. Esatto. Ok? No. Eh no, vabbè no. Non si è identificati. No, 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 no. No, un reclamato non è una vittima. Fin dall'inizio i reclamati sono persone reclamate dalle famiglie che non appartengono alle vittime. Perché potrebbero tornare... Possiamo dire che nella peggiore delle ipotesi, tra quelle che sono purtroppo le vittime identificate e non identificate, e i reclamati di qui non c'è ancora niente, quindi però il massimo, l'ipotesi più drammatica fa 14? Questa è teoricamente l'ipotesi più drammatica. Noi ovviamente speriamo che sia minore. Perché i 3 potrebbero fare parte del 5. I 3 potrebbero fare parte del 5. Però finché non vengono identificati noi non lo possiamo dire. Non è corretto nei confronti delle famiglie e delle persone stesse. No, infatti, ho fatto l'ipotesi del dramma peggiore che dobbiamo essere preparati. No, infatti, ho fatto l'ipotesi del dramma peggiore che dobbiamo essere preparati.